4 a 25, Laura Ehrman ha in mano il pallone che potrebbe valere il tie break ricezione staccatissima di Maret Grotius, Enidrius c'è la difesa di Laura Ehrman, Giulia Fincerato per Caterina Bosetti murata da Giovanna Stevanovic, resta vivo questo pallone Leolo Bianco, palla spita per Enidrius, c'è il muro difesa della Lugionard Meccanica Modena che contraattacca con Caterina Barun ci arriva in qualche modo Maret Grotius, free ball per la Lugionard Meccanica Modena Giulia Fincerato, palla spita per Caterina Bosetti c'è il punto per... attenzione, attenzione attenzione, e qui c'è un infortunio credo molto grave per Caterina Bosetti l'abbiamo sentito tutti, l'urlo di Caterina Bosetti anche le giocatrici, le sue compagne di squadra si mettono le mani nei capelli hanno capito la gravità della cosa questa è un'immagine che non avremmo mai voluto vedere questa è veramente un'immagine che resterà perché la gamba di Caterina Bosetti ha fatto un movimento davvero vediamo Ilaria Garzaro disperarsi davvero bruttissimo, c'è l'applauso del Palaradi di Cremona lo avevamo intuito dal volto delle giocatrici vicino a lei che hanno subito avvertito la gravità di questo infortunio davvero un infortunio gravissimo per Caterina Bosetti in lacrime Ilaria Garzaro tanta sfortuna anche per la Lugia Honor Meccanica quest'anno ricordiamo Raffaella Calloni ed ora Caterina Bosetti tra l'altro Caterina Bosetti giocatrice che è nel giro della Nazionale per cui potrebbe essere una grave perdita non solo per la formazione emiliana ma anche per Davide Mazzanti vediamo le compagne di squadra di Caterina Bosetti in lacrime è un momento davvero difficile anche solo da descrivere aver visto quelle immagini Mauro è stato davvero un colpo notevole per tutti vediamo anche coach Marco Fenoglio qui la situazione è quasi irreale al Palaradi di Cremona tanta la preoccupazione stanno intervenendo i sanitari della Padana Soccorso che sono sempre presenti qui al Palaradi di Cremona Caterina Bosetti che lo ricordiamo è riuscita poc'anzi per quella sorta di affanno rivediamo anche il replay davvero un bruttissimo infortunio per Caterina Bosetti tutto il Palaradi in piedi tutti preoccupati per Caterina Bosetti davvero un infortunio difficile anche da raccontare è difficile davvero da spiegare vediamo che stanno immobilizzando Caterina Bosetti che verrà trasportata in ospedale la vediamo peraltro era appena appena rientrata Caterina Bosetti aveva avuto un momento di difficoltà a livello respiratorio aveva guadagnato la panchina coach Marco Fenoglio l'aveva fatta rifiatare e poi appena appena tornata a disposizione è stata rispedita in campo cercata immediatamente da Giulia Pincerato per farla tornare subito nel vivo del match nel vivo del match e poi questo è il pallone decisivo questo è il pallone che ha consegnato comunque alla Lugion Nord Meccanica Modena il ventiseiesimo punto del quarto set e la possibilità di giocarsi il tie break eccoli qui i sanitari che stanno immobilizzando Caterina Bosetti c'è Laura Ehrman che non si è mossa da lì è rimasta sempre a stretto contatto con Caterina Bosetti è rimasta lì ad abbracciarla e qui c'è l'applauso di tutto il palarà di Cremona ci uniamo anche noi a questo a questo applauso per Caterina Bosetti è davvero complicato Mauro trovare ancora le parole ripensando a questo infortunio di Caterina Bosetti davvero gravissimo è inutile girarci intorno abbiamo visto le immagini questa è davvero una brutta tegola non soltanto per la Luzione Nord Meccanica Modena ma anche per il volley nazionale stanno proseguendo intanto le operazioni di immobilizzazione di Caterina Bosetti che da lì con le mani sul volto non si è più non si è più mossa vediamo come coach Marco Fenoglio abbia radunato le proprie giocatrici a sé probabilmente dovrà anche lavorare di psicologia perché insomma questo è uno shock è stato uno shock per noi vederlo con l'ausilio del replay è stato uno shock per chi l'ha visto da vicino per le giocatrici e quindi insomma per chi dovrà tornare in campo a giocarsela non sarà per niente facile eccola qui stanno alzando Caterina Bosetti che è immobilizzata sulla sulla barella ed ora verrà trasportata fuori dal palaradi di Cremona tutti i 2700 presenti al palaradi di Cremona stanno tributando un grande applauso a Caterina Bosetti un grande in bocca al lupo a questa giocatrice a Caterina Bosetti